Dona un sorriso è il progetto che vede coinvolti il Kivanis Club Gela e i servizi sociali del comune presentato oggi. È prevista la possibilità di ricevere gratuitamente cure specialistiche odontoiatriche rivolte ai giovani appartenenti a famiglie indigenti del territorio. Sarà effettuato uno screening odontoiatrico per la cura e la prevenzione della carie dentale rivolto a ragazzi che frequentano vari istituti scolastici dal territorio. Faremo uno screening da tutti i ragazzi ma soprattutto per dare ai ragazzi appartenenti a famiglie indigenti le strette e necessarie cure odontoiatriche e ortodontiche che il caso necessita. Questo li daremo a scopo completamente gratuito grazie alla collaborazione di alcuni colleghi odontoiatri che hanno aderito e sposato appieno il progetto. E grazie anche alla collaborazione del comune di Gela che l'amministrazione comunale è stata sempre pronta a rispondere alle nostre esigenze. Questo è un esempio come poter dare delle risposte grazie alla collaborazione dei cittadini. Essere cittadino attivo non vuol dire solo e esclusivamente portare avanti dei problemi ma portare delle soluzioni e portare delle soluzioni concrete come quelle che ha presentato il Kivanes. L'amministrazione non poteva che non essere vicino al Kivanes perché questi tipi di attività oltre che a rivolgersi a una fascia di popolazione che oggettivamente si può trovare in difficoltà in realtà fa vedere lo spirito di aggregazione di una comunità. Credo che abbia una grande rilevanza sociale, un'attività molto meritoria. L'assessore ai servizi sociali Licia Abela. Noi daremo la massima collaborazione nell'individuazione dei soggetti che possono essere portatori di interessi nei confronti di questa iniziativa e quindi ringraziamo loro e ci proponiamo di diventare il tramite giusto tra chi ha bisogno e chi pone la propria generosità a servizio di una città.